Questo video riguarda i migliori 3 aspirapolvere senza sacco. Il vincitore della qualità nel nostro aspirapolvere senza sacco va al Philips GC9331. Progettato per ottenere le massime prestazioni. Questo aspirapolvere offre prestazioni ottimali per la pulizia di pavimenti duri. La tecnologia Power Cyclone 5 accelera l'aria all'interno della camera ciclonica per separare la polvere dall'aria. Il nostro sistema di filtro Clean Air cattura il 99,9% delle polveri sottili, inclusi polline, peli di animali e acari della polvere, ed è ideale per chi soffre di allergie e per chiunque richieda un'igiene di livello superiore. La spazzola Triactive applica tre azioni di pulizia in una volta sola. 1. Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. Nell'impugnatura è integrata una spazzola morbida, così da essere sempre pronta all'uso su mobili, superfici piane e tappezzeria. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Roventa RO2913. L'aspirapolvere Swift Power CYCLINIC offre risultati di pulizia profonda in un formato compatto, per semplificare le faccende domestiche. La tecnologia ciclonica avanzata si unisce alla spazzola di aspirazione ad alta efficienza per offrire, giorno dopo giorno, la tecnologia ciclonica avanzata produce un elevato livello di separazione di aria e polvere, per prestazioni di pulizia elevate e risultati di lunga durata. Grazie al suo sistema ad alta efficienza, Swift Power CYCLONIC filtra il 99,98% di polvere e garantisce un ambiente sano. Il suo design compatto lo rende ideale per spazi abitativi ridotti, offrendo raggiungibilità durante la pulizia e massima comodità ogni giorno. Questo formato di traino senza sacco è estremamente pratico grazie al contenitore della polvere facile da svuotare e pulire. Semplifica la pulizia grazie alla spazzola di aspirazione ad alta efficienza e al motore EFITEC che garantiscono un ambiente domestico impeccabile. Raggio del cavo ad ampia azione. Con i suoi 7,6 metri permette una copertura eccezionale, per una pulizia ad alte prestazioni che raggiunge ogni angolo della casa. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nell'aspirapolvere senza sacco è il AndyForce 2761. Per aspirare comodamente tutta la casa, hai bisogno di una scopa elettrica versatile e leggera, che si possa adattare a qualsiasi angolo, anche il più nascosto. La spazzola universale è ideata per pulire in profondità qualsiasi tipo di pavimento, anche i più delicati come marmo, grass porcellanato o ceramica. AndyForce aspira e torna il pulito in qualsiasi superficie. AndyForce è contemporaneamente scopa verticale e aspirapolvere portatile. In un semplice clic è possibile smontarla e utilizzarla in tutti i contesti della casa. La potenza aspirante di AndyForce unita al filtro EPA assicurano, non solo un'aspirazione profonda, ma anche l'eliminazione di micropolveri, acari e pollini che restano così intrappolati all'interno del serbatoio, evitando la loro dispersione nell'aria. AndyForce diventa in un attimo un aspirapolvere ideale per aspirare e rinfrescare divani e poltrone, ma anche gli interni della macchina. Niente più polvere, quando in giro c'è AndyForce di Ariete. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.